Questa mattina la squadra nautica del Corpo dei Vigili del Fuoco Rivani è stata impegnata per il soccorso alla barca a trasporto persone Moby Dick. La chiamata di soccorso è arrivata direttamente dal comandante della barca al centralino dei Vigili del Fuoco di Riva del Garda, mentre per un'avaria si stava avvicinando agli scogli davanti al Golfo di Torbole con passeggeri a bordo. La squadra nautica dei volontari si è portata subito sul posto col motoscafo in dotazione ed ha agganciato la barca, mentre i passeggeri sono stati spostati sulla barca Spidi Gonzale. Per il traino in porto, presso il canale della Rocca, si è aggiunto in supporto anche il motoscafo della Polizia di Stato. La causa dell'avaria sembra sia stato il distacco del filtro del gasolio, che era stato sostituito solamente ieri durante i normali lavori di manutenzione.